Questo video riguarda i migliori 3 testiere per letto. Il vincitore della qualità è il Smingm copritestata. Copritestiera letto matrimoniale singolo del letto in spandex e poliestere, morbido e confortevole non si sbiadisce facilmente, durevole, molto adatto per l'uso tutto l'anno. Fodera testata letto adatto per una varietà di testate letto, pelle, tessuto, legno, semplice ed elegante, testiere a bordo semplice. Questa è la scelta migliore e il modo più semplice per aggiornare il nuovo look della testiera. Copritestiera letto è facile da installare e il suo tessuto elastico può avvolgere facilmente l'intera testiera. Copertura testiera letto è espandibile sul lato e sul letto posteriore, il bordo elastico nella parte inferiore può facilmente fissare la copertura testiera letto sulla testiera. Copertura per testiera per letto protegge il testata letto da polvere, sporco, briciole e macchie e una buona protezione per lo schienale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Kain Fodera per testiera. Se siete alla ricerca di un ricambio per la vostra vecchia testiera, vi preghiamo di guardare la nostra copertura per testiera. Non c'è bisogno di costare molto per acquistare uno nuovo. È la scelta migliore per rinfrescare il nuovo aspetto della testiera. Con l'esclusiva tecnologia di tessitura, il materiale realizzato in 95% poliestere e 5% elastan rende il copricapo comodo, avvolgente, resistente e durevole. Grazie all'esclusiva tecnologia di tintura, il colore rimane invariato dopo ripetuti lavaggi, ideale per l'uso tutto l'anno. Adatto per la maggior parte delle testiere da 120 cm a 220 cm consiglio, si prega di misurare la lunghezza della testiera e scegliere la taglia giusta. Diversi colori possono essere abbinati alla tua camera da letto, anche la testiera già leggermente usurata può ottenere un nuovo look. Questo è il modo più economico per proteggere la testiera e rinnovare l'arredamento della camera da letto. Il vincitore del premio è l'app copertura. Il rivestimento per giro letto matrimoniale è realizzato in tessuto spandex e poliestere di alta qualità, super morbido e confortevole, anti-rughe, anti-pilling. Copri testiera letto matrimoniale imbottita e adatto alla maggior parte delle testiere. Il fondo è fissato con un elastico, che può essere avvolto meglio sulla testiera e fissato sulla testiera. Risparmia Il rivestimento protettivo della testiera porta un nuovo look alla tua camera da letto a un costo inferiore, è la scelta migliore e il modo più semplice per aggiornare l'aspetto della nuova testiera. Utilizzato per testiere letto matrimoniali, questa testiera è flessibile, si prega di confermare la dimensione prima dell'acquisto, adatta per testiere piatte e curve. Copertura per testiera per letto è facile da installare, e può essere lavato a mano o in lavatrice ad una temperatura dell'acqua di circa 30 gradi C, non stirare o candeggiare. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un, mi piace, e un commento.